un cordiale benvenuto alla mostra collettiva d'acquarello velature il titolo della rassegna vuole essere sia sinonimo di uno svelamento quello della speranza in un futuro migliore rispetto al presente che stiamo vivendo sia perché le velature sono un elemento fondamentale dell'acquarello una tecnica quella dei colori ad acqua per lungo tempo ingiustamente considerata semplice e sbrigativa mentre in realtà risulta assolutamente complessa ma anche dal fascino straordinario che si compone di soluzioni rappresentative infinite come quelle proposte dei protagonisti di questa esposizione non c'è dubbio che ritrovare paesaggi scenari e naturalmente città dopo il lockdown sia un'emozione forte e intensa lo dimostrano gli acquarelli con cui si apre questa rassegna delle barche alla fonda un cielo incerto nuvole cupe e minacciose un porto sicuro sono queste e tante altre le prime suggestioni che derivano dall'osservazione di questo raffinato lavoro di ganna piva esso si articola su una invidiabile orchestrazione dove il chiaroscuro diventa l'assoluto protagonista in un'atmosfera sottilmente sospesa una pacata e serena tranquillità è il fulcro vitale e vivifico di questa preziosa carta d'acquarello di Giorgio Armelloni nella quale traspare dalle limpide e ben scandite velature il fascino immutabile dell'isola dei pescatori tra le più celebri del lago maggiore la temperatura raffigurativa è avvolgente e davvero sognante certi tramonti che ci appaiono all'improvviso sono talmente intensi e vibranti che sembrano quasi reali lo dimostra questa eccellente prova querellistica di Issa Scacca Barozzi in cui riflessi della vegetazione nell'acqua ci conducono direttamente verso un'atmosfera modulatamente onirica resa con una pennellata sciolta e seducente che mira a evidenziare il fascino della natura altrettanto suggestivo è questo tramonto in pianura eseguito con notevole perizia rappresentativa da Maria Luisa Stefanini una strada in salita porta verso un orizzonte in cui il sole sta per scomparire e lasciare posto alla notte imminente un tratteggio cromatico vellutato connota morbidamente l'insieme Venezia rinasce questo è il convincimento che condividiamo di Luigi Onofri che con questa incantevole veduta allude la ripresa della serenissima dopo il difficile momento di sosta dovuto alla pandemia l'atmosfera si carica quindi di autentico trasporto complici precise velature che dal primo piano allo sfondo inquadrano uno scorcio che ci immerge nella quotidiana bellezza di una città unica al mondo restiamo a Venezia con uno scorcio insolito di Tiziana Mazzucato che riprende con tocchi morbidi e dolcissimi la quiete e il silenzio che si respirano all'interno di un rio attraversato da un'acqua insolettamente placida questa viene tradotta con pregnanti toccature che rendono il colore particolarmente brillante e l'insieme assolutamente armonico la solare pittura di Nicoletta Gentili ci porta ad apprezzare uno scorcio di Parma precisamente la veduta della pilota dal Ponte Verdi il piano osservativo si distende alla vista secondo una progressione dovuta al pigmento esso si distribuisce setoso lungo il foglio e consente di apprezzare particolari dettagli alquanto intriganti consentendo così un'esplorazione davvero ad ampio raggio una riosa veduta toscana è la proposta querellistica di Nicoletta Reina Castori al centro di una molle collina fasciata da una coltre quasi palpabile si staglia un eremo custodito da una fitta vegetazione mentre tutto attorno ogni cosa svapora quasi a rendere l'insieme a metà strada fra realtà e immaginazione un insieme in cui immergesi completamente a sinistra la loggia dei militi a destra il battistero più in là la cattedrale con il torrazzo sono questi gli elementi centrali con cui riccardo bozzuffi dipinge in maniera inappuntabile piazza del duomo cuore pulsante di cremona una visione dal basso verso l'alto davvero intensa condotta secondo precise linee prospettiche molto interessanti sono anche gli acquarelli dedicati ai vegetali once upon a time in my garden c'era una volta nel mio giardino sembra l'inizio di una fiaba in un certo senso lo è se si osservano le smaglianti cromie con cui Lorenza Aldrighetti definisce la ricca vegetazione che in modo spumeggiante vitale si presenta davanti allo sguardo dell'osservatore siamo davanti a una pura contemplazione statica della incommensurabile bellezza della natura la luce che promana dai fiori eseguiti con passione da Annalisa Gasparotto conducono direttamente ad apprezzare una pennellata che definisce i vegetali con morbida leggerezza e rare intensità essa si avvale di uno studio attento del particolare e si concretizza in una filiforme fascinazione che sorprende e ammalia a lungo Anna Semeraro conduce per mano l'osservatore alla scoperta di un delicato vegetale lo fa appoggiandosi alla bella regola dell'acquarellare per cui dipingere con l'acquarello è girare attorno al bianco della carta il risultato è assolutamente godibile connotato da una poesia immaginativa sottile ed intensa riflesso della sensibilità di Sam immagini e simboli connotano diversi acquarelli caratterizzati da precise notazioni evocative è impossibile non lasciarsi sedurre dalla incantevole dolcezza di questa deliziosa bambina che osserva divertita e meravigliata cosa accade sopra la sua testa alzando gli occhi un sorriso coinvolgente il suo reso come l'insieme da Pamela Stracci con notevole ed invidiabile capacità metanarrativa tanto da portare alla ribalta velatura dopo velatura una raffigurazione emozionante e assolutamente sincera tutto è cambiamento, evoluzione, espansione dice Laura Capelletti a proposito di questo suo lavoro un'espansione alchemica connota il pezzo che conduce in una accentazione quasi psichedelica in cui cioè l'elemento coloristico ruota all'infinito mentre quello materico, la mano costituisce il riferimento diretto alla realtà reale e tangibile in una fluttuazione infinita e, verrebbe da dire, corroborante il ricordo di un'amica musicista lontana e la voglia di riabbracciarla presto dopo il periodo pandemico è il motivo che ha spinto Mara Corfini a realizzare questo acquarello la pittrice toscana omaggia Zoya con un'opera fresca e avvolgente in cui il pigmento scivola nei solchi della carta dando vita a un'espressività intensa e palpitante come le conchiglie e il mare sullo sfondo attualissimo e parimenti il lavoro di Franco Mattanza esso fa evidentemente riferimento al distanziamento sociale che ad oggi sembra fra le poche ed efficaci precauzioni per arginare e diffondersi del virus con una stesura verticalizzante l'artista bresciano coglie questo aspetto della vita sociale toccando il cuore e l'anima dell'osservatore sembra forse di poter leggere nel quadro la speranza più volte evocata dell'adagio per cui è meglio rimanere lontano oggi per abbracciarsi con più forza domani una mandria di cavalli che corre al tramonto sulla spiaggia i destriari sono dipinti nel loro vigore da Sabrina Ravani sono anch'essi l'emblema di una libertà preziosa in parte ritrovata lo è in questo movimento dipinto con linee acute ficcanti dalla pittrice in cui si respira quella voglia di ricominciare di andare avanti col procedere certo e senza pentimenti di questi cavalli definiti grazie anche ad una brillante accentazione dinamica a proposito di speranza l'acquarello di Giovanni Conti vuole esserne un'ulteriore invocazione il nuovo mondo a cui si affacciano due figure che appaiono all'alba sembra dirci il pittore non è infatti inedito ma è quello che si prospetta a chi dopo un'esperienza come quella della diffusione del covid-19 deve trovare la forza e il coraggio per ricominciare guardando al futuro con occhi nuovi occhi diversi a cominciare da ciò che gli sta più vicino la natura si conclude così questa rassegna che ancora una volta dimostra quanto la poesia dell'acquarello possa essere straordinariamente efficace grazie anche alle vellature che lo contraddistinguono grazie a tutti grazie a tutti